In questo momento che non dovrebbe durare più di una mezz'oretta, 40 minuti, fate capire con qualunque tipo di espressione del volto, questo sarebbe il momento in cui i partecipanti ai diversi workshop potrebbero trovare l'occasione per condividere la loro esperienza svolta con i colleghi o per fare domande ai moderatori o dare stimoli al gruppo. Io non aggiungo proprio nient'altro, io chiedo a voi se qualcuno ha voglia di fare domande, stimolare o anche soltanto raccontare quello che ha vissuto o che gli è parso di poter sperimentare nei workshop frequentati. A voi la parola.